ragazzi lo vedete questo ago e come no questa è la vostra salvezza chiunque super questa prova uscirà dal manicomio ovvero ecco chi vuole diamo provare per primo otto diamo la precedenza a manuela la signorina e femmina benissimo manuela ascoltami bene ti devi nascondere dietro a questo ago vediamo manuela tu qua dentro ci devi stare altri vent'anni vediamo il signor di maio signor di maio questo è il lago si dottor io il lago mi prendo per fare con te ma io non sono pazzo e non sono fesso come faccio a me nascondere da nani io vi voglio bene dottor vi voglio bene prendete questo ago bravo complimenti grazie siete libero vado a casa sì però una curiosità me la devi togliere dite perché hai detto che non ti puoi nascondere dietro al lago dottor io mi nascondo ma voi non muovere lo stesso in dopo che lago